Dura presa di posizione del gruppo di ABC in merito alla mancata costituzione di parte civile da parte del Comune di Alcamo per l'operazione antimafia Freezer che portò in carcere nello scorso mese di febbraio sei persone e cinque vennero indagate a piede libero nel corso dello stesso Blitz. Nel discorso si svolta a Palermo l'udienza preliminare e il giudice ha accolto la costituzione di parte civile presentata da associazioni e imprenditori ma hanno disertato l'udienza i Comuni di Alcamo e Castellammare. Scrive in una nota ABC che in questo modo intende manifestare il proprio rammarico per la scelta del Comune di Alcamo di non costituire parte civile nel processo che ha oggetto la cosiddetta operazione Freezer. Riteniamo da sempre, dice ancora ABC, che il fenomeno mafioso vada affronteggiato in primis con le azioni, non solo con le belle parole e con un modo di fare politica che argini le pratiche tipicamente riconducibili a quel fenomeno. Altrettanto importante però, riteniamo, dice ancora ABC, sia lanciare un messaggio chiaro ed inequivocabile che faccia sentire forte nel cittadino la presenza delle istituzioni nella lotta contro la mafia. Questo è il testo della nota di ABC. Gitta acqua sul fuoco delle polemiche Vincenzo Lucchese, presidente dell'Associazione Antirraget e Antiusura di Alcamo, il quale afferma, pensiamo che possa essersi trattato di una svista da parte del Comune di Alcamo, dice Lucchese, e ci auguriamo che nella prossima udienza presente la Costituzione di parte civile. La prossima udienza è stata fissata per il 10 novembre su richiesta dei difensori degli indagati affinché possano studiare le carte presentate nel discorso dall'accusa che riguardano principalmente alle intercettazioni telefoniche. Il Comune di Alcamo, così come quello di Castellammare, hanno la possibilità di presentare la Costituzione di parte civile sino alla vigile della prima udienza sia che si tratti del rito ordinario che del rito abbreviato.